mi ci sono voluti 19 anni per leggere questo quaderno di appunti sono 77 paginette mi pare in ottavo certo era molto giovane Flaubert mi si può perdonare tutto soprattutto l'innocente coerenza io non sono mai stato molto giovane e da subito colpevolmente coerente mi sono messo a progettare questo trattato sui principi luminosi delle latebre che quasi certamente non vedrà mai la luce ecco tra me e Flaubert c'è una bella differenza lo devi ammettere dottore però mi prende lo sconforto le latebre sono un luogo apparente e la densità della luce contro ogni apparenza è all'incirca infinita nulla è più denso di questo impacco che ti preme sugli occhi e ti pesa sul cuore come una luna stanca e deformata dall'attesa giustissima e umana o ingiustissima e disumana scelga lei del gran buio paterno ci sono molto contraddizione lo capisco da solo nessuna luna è in attesa e poi nell'opificio la cosiddetta fabbrica dei pazienti non ci sono le parti di ostitrice e ne poche infermiere non mi sembrano baglieri denti o levatrici astronomiche che passano le notti a cercare qualcosa sotto la coda delle comete comunque capisco che Fulbert non avrebbe mai pubblicato quel suo libretto da lattante ma perché non distruggerlo allora e perché mi dovevano capitare qui proprio al centro del comodino le sue memorie di un bambino prodigio una cosa davvero da pazzi una cosa davvero indegna di qualunque sanissimo internato e poi le certi che è ben inteso non sono pesci o frattaglie di polleria no sono testimonianze di perversioni adiacenti o giacenti non saprei aggiungete una lieve peluria che le ombreggiava il labbro superiore vede dottore al bambino prodigio piacevano soltanto le donne baffute e magari i coltelli dei barbieri sa tra le smarre della finestra c'è soltanto un intreccio di cielo e alberi un canestro direi probabilmente per la biancheria e forse intima ci crede? io ci credo perché qualcosa dobbiamo contemplare specie i bucati che sono lunghi inammissibili in questa oasi come dire della cattività o meglio dell'internità liminare sa non bisogna mettere limiti alle infinite possibilità del linguaggio degli internati che hanno un posto privilegiato sul limitare del mondo io l'ho sempre pensato che le mie lunghe mutande di lana fossero come minimo una cosa paesaggistica una veduta non proprio alpestre ma almeno collinare e direi che galleggio sulla rete di questo letto di ferro dalle sbarre sottili come fanoni lei giustamente pensa che non siamo in una belena pensa che sto a mezz'aria e io le do pienamente ragione non pensi nulla però la prego i pensieri fanno un rumore sgradevole le unghie sul marmo l'unica cosa che non riga il silenzio che non ci fa quelle lunghe striature è la mia voce e mi sono allenato a modularla in 19 anni di suoni palatini e velati perché potesse mimetizzarsi non dico nascondersi no non voglio nascondere nulla io ma nemmeno svelare sa ci sono solo luoghi comuni qui come la luce è suono come il canto delle ghiandaie fuori si ascolta con le pupille insomma quelle banalità irritanti che ripetono tutti anche le grandi balie e il barbiere del nosocomio sa a volte ne vengono pensieri talmente violenti che rovesciano persino i cassetti lo vede bene cosa c'è sotto il tavolo no crede che non saprei capovolgerlo al cielo crede che non sarei capace di mettere tutti i tigli che ci sono in giardino e anche i salici qui la testa in giù mi fa così ridere quando si piega sul suo sigaro spento lo tiene in bocca come un termometro e fa finta di meditare sull'episteme dei manicomi il camice però le dona anche perché deve nascondere il disordine dei vestiti lei se li mette a caso i vestiti è inutile che mi dica di no e che sotto quel bianco tutto è perfettamente architettato anche la piccola piuma di passero che porta all'occhiello io sarò prevenuto e preveggente magari ma vesto molto meglio di lei camicia chiara di purissimo lino con un piccolo uccello lira azzurro ricamato proprio all'altezza del cuore pantaloni larghissimi a vela di un delicato bianco caolino lei non ci crede che passerà di qui il vento ma io ho le mie idee e in ogni caso posso aspettare forse per essere ordinato e direi matematico dovrei farmi scorciare i capelli da tanino però non ho il coraggio di affrontarlo a quest'ora mentre senz'altro insapona grandi balie barbute e quei topi dal pelo gattino che qui spadroneggiano io nella sua bottega ci posso andare solo verso le tre del pomeriggio quando lui si addormenta e sogna tagli spericolati e sfumature da accarezzare con un dito di talco se la dolcezza del suo sonno lo fa parlare io non mi incanto e ti chiudo la bocca con un tocco dal lume aspetto che si svegli e intanto lo sorveglio dall'alto prima che mi curvassi così ero talmente alto che la mia testa germogliava sui tetti dell'ospedale e non potevo fare altro che sorvegliare il paesaggio per così dire dall'esterno il mio dialogo con gli alberi scorreva verso il basso defluiva gli uccelli mi facevano il nido sulla testa erano in fondo una grande consolazione io mi nutrivo delle loro uova e questo li esasperava ma sapevano dominarsi azzecati dal lume della mia splendida ragione come se fosse chiara la natura e il suo svolgersi secondo gli irrinunciabili principi luminosi delle latebre sì come quando la mia testa cominciò a risplendere di luce propria e aveva un bel cantare quel ruffiano matricolato di tanino che i miei capelli sono sani e luminosi e glielo dico in confidenza dottore non ci sono ospedali che non abbiano questi giochi di luce questi dialoghi sui tetti e nelle prime zone del cielo ma non deve pensare a una separazione netta tra gli stati solidi e gli stati gassosi tra i rumori e la musica è una questione puramente ornitologica cosa fanno gli uccelli se non legare musicalmente ma anche pazzescamente sono uccelli manicomiali non lo dimentichi gli alberi e i cieli con le loro penne pentagrammatiche non fanno altro è evidente e tutte le mattine metto i piedi per terra mi guardo intorno un attimo un lunghissimo attimo che si ripete da 19 anni un'enorme incertezza che mi creda lì per lì paralizza il mondo mi lavo prima il viso o faccio prima la pipì non saprei dire come succede ma per incanto decido rumino immagino l'inizio del trattato il primo passo verso l'opera che mi attende sotto i cassetti rovesciati sotto i salici e i tigli capovolti dico che l'importante è cominciare da un pensiero preciso cioè che ci vogliono troppe parole per descrivere non saprei come dire lo stato delle cose prima della luce ossia l'oscurità dei bicchieri prima delle lucciole ma lei dottore non ha mai visto un trattato dall'interno noi siamo abituati a leggerli dal di fuori certi lugubri incartamenti trampichiamo come locuste sulle croste vischiose dei trattati li circonnavighiamo sono apribili mappamondi dai mari di miele nero dai continenti di pane troppo abbrustolito il fatto è che abbiamo sempre fame una fame avvolgente e sconsiderata una fame in un certo senso dietetica e oppositiva così mangiamo continuamente porzioni di carta scondita che non ci nutrono e ci fanno sentire degli spiritati mi creda qui non servono a nulla le vitamine noi dovremo legare con mezzi fisici quelle enormi catene di aminoacidi che si sciolgono come versi senza mani né piedi come poemi cavallereschi senza briglie né rime mia madre a me piacciono solo gli esempi concreti e i suoni abbastanza labiali e poi i numeri pronuncio le parole fondamentali mia madre mia madre mia madre tre volte io mi sono allenato a pronunciarla mia madre come un seme di zucca che mi sta in equilibrio sulla punta della lingua me la batto sui denti tre volte poi la sputo mia madre vede lei non si crede che esistano madri implose in un cotiledone è davvero che non esistono per loro non c'è posto in questo stato di cose insomma se esistesse mia madre ma proprio mia madre sarebbe troppo piccola e troppo assorta in quella sua così caratteristica mancanza di pensiero un idiota eh magari le piacerebbe insinuare che mia madre è un idiota in un certo senso sì è un idiota ma anche una madre retrattile che si richiude in un corpo magistralmente ridicolo ma anche il metacarpo sotterraneo di un salice piangente sarebbe così debole se esistesse mia madre e le zera io potrei trasportarla in una piccola scatola di cartone con qualche buco per farla respirare oppure crudelmente in una scatola senza buchi per vedere se sopravvive al suo coperchio me la guardo che testina minuta così incassata tra le spalle ricurve me le metto su un dito mia madre secco e ingemmato come un ramo il dito e mi pare che ci stia bene anche se il cuore deve trillarle tra le piume come un campanellino ferroviario sei un uccello bruttissimo ma questo non vorrebbe dire niente è che non mi va di ricostruirti una voliera dal nulla dall'aria tra le sbarre e nemmeno non mi viene dal cuore di legarti per un piede e poi farti salire fino a che dura il filo no meglio tenerti nella scatola non è un pensiero fisso si sposta da un angolo all'altro della stanza gli angoli sono otto gli spigoli dodici sinceramente credo che la rovina dell'umanità sia cominciata quando i capomastri hanno deciso che le stanze si fanno così lei mi dirà che vivo di nostalgia ma la culla non ce li aveva gli angoli e nemmeno gli spigoli è un fatto dove poteva nascondersi secondo lei e in tempi non sospetti il mio pensiero dominante lei non lo sa ma glielo dico io tra le mammelle disgustose di mia madre o peggio tra i sespuglietti della foresta tropicale che qualche volta le ho intravisto non le dico dove certo mia madre mi tormentava a ore fisse voleva soffocarmi con quei capezzoli rugosi che mi facevano rabbrividire già da lontano quando prendevano a fissarmi in un modo in un modo forse voleva farmi tacere perché stavo per cantare avrei intonato troppo bene il tedeum avevo tutto lì sulle mie corde tese tedeum laudamus tedeum confidemur tedeum patrem omnis terra veneratur era gelosa di mio padre evidente tibi omnes angeli tibi cieli et u diverse potestates tibi cherubim et serafim incessabili voce proclamant sanctus 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 tre volte non c'era altro modo di azzittirmi che riempirmi la bocca con la sua carne increspata e contraria a tutte le liturgie tacevo dovevo respirare cautamente il silenzio si indigantiva dentro le orecchie come una parotite facevo uscire dall'angolino della bocca un rivoletto acido e colloso poi mi veniva una tosse cavernosa e risputavo tutto un'esplosione gigantesca e liberatoria la stanza si allagava e un odore di infermeria saliva fino al cielo